Musica A proposito di mare ci sarebbe anche un altro mare che è l'Amianto Pozzino. Sì, un tema che è sempre all'attenzione dell'amministrazione, ne ho parlato anche ieri in questi giorni, stiamo valutando la migliore soluzione dal punto di vista finanziario e di bilancio per risolvere la questione. È evidente che c'è un'inerzia da parte del proprietario dell'area alla rimozione, visto che è stata ordinata la rimozione in danno, ha un costo finanziariamente notevole per cui il Comune in questo momento dovrebbe anticipare i costi finanziari per poi ripeterli dal privato. Stiamo battendo ogni strada perché anche altri enti possono aiutare il Comune a risolvere questa... Quali sono i costi? I costi superano i 350 mila euro per la... Ci sono già 100 mila in bilancio rispetto a questo? Sì, sì, del precedente bilancio sì, ma ovviamente non sono sufficienti per iniziare e completare l'opera. Chiaro, però altri 200 mila secondo i vostri conti si risparmierebbero dalle commissioni? Secondo i conti di tutti, ma voglio dire, al di là della facile demagogia che viene fatta sui conti, in realtà le operazioni che abbiamo messo in campo di riduzione della spesa probabilmente ci consentiranno di fare questo e anche altre cose, ma voglio dire, lo vedremo a rendiconto approvati. Grazie. Grazie.